Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nelle campagne di San Marco e Lamis, provincia di Fogi, i carabinieri hanno fatto una macabra scoperta recuperando i resti umani di Angelo Tricarico, un giovane di 27 anni scomparso 11 anni fa nell'agosto del 2013. La scoperta, avvenuta alcuni mesi fa, è stata resa nota solo oggi, sabato 16 marzo. Dopo approfondite indagini, i resti insieme al documento di identità del giovane sono stati trovati in un pozzo, insieme ai frammenti dei suoi vestiti. Gli inquirenti ritengono che il ragazzo sia stato ucciso con un oggetto contundente in un luogo diverso e poi abbandonato nel pozzo, scelto presumibilmente dagli assassini per occultare il corpo. Angelo Tricarico, sposato e con un figlio, lavorava occasionalmente come muratore e agricoltore nelle campagne circostanti. Il giorno della sua scomparsa, lasciò casa alle 8 del mattino per recarsi alla masseria di un parente, dove stava lavorando nella raccolta del pomodoro, promettendo alla moglie di tornare presto. Tuttavia, non arrivò mai alla masseria. Non possedeva un telefono cellulare e la trasmissione Rai chi l'ha visto si interessò alla sua scomparsa, ma fino a pochi giorni fa il destino del giovane è rimasto avvolto nel mistero. Ora, con il tragico ritrovamento dei suoi resti, si apre una nuova fase nell'indagine per far luce sulla sua morte e portare i responsabili alla giustizia.